Un fiore all'occhiello in questo settore e in questa zona? Assolutamente sì, è un'opera attesa da oltre un decennio, finalmente giunge a compimento e peraltro a mio avviso rappresenta un ulteriore tassello, in questo caso dell'assistenza evidentemente veterinaria, ma voglio ricordare una parte importante della sanità, anche per la tutela della salute delle persone, ma non solo. E quindi noi ci occupiamo rispetto a quest'opera di una parte importante dell'assistenza. Fortemente voluta anche dalla ASL questa realizzazione, questa conclusione di lavori? Beh assolutamente sì, anche perché si sa che rispetto a tutto quello che riguardava la salute animale vi erano diversi problemi in questa provincia e oggi vengono affrontati, io direi abbastanza anche risolti, con una inaugurazione molto importante, con una struttura molto importante che prevede peraltro un percorso vero e proprio che secondo me è significativo. Ecco, 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 no.